E non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci Xyuderone! DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi mamma mia, mamma mia quante cose stanno succedendo! Non hanno fatto niente per 120 giorni, adesso cominciano a buttare dentro roba che va a farci capire un pochettino quello che ci dovremmo aspettare nella season 2 di questo capitolo 2 di Fortnite! Insomma i teaser alcuni li abbiamo visti, ne hanno pubblicati ieri due contemporaneamente, sono state scoperte un sacco di cose e nel video di oggi cercherò proprio di fare un pochettino il punto della situazione pensando già ai nuovi teaser che dovrebbero arrivare proprio nella giornata di oggi! Vi ricordo, tenete sempre controllato il canale YouTube e la mia pagina Instagram, Xyuder, facilissimo! La trovate per tutte le piccolezze e le informazioni e i video perché questi giorni sono veramente super super caldi! Nel video di oggi infatti parleremo oltre che di tutto quello riguardante la season 2 anche dei teaser ma soprattutto dei segreti! Sì perché ci sono delle cose che non possono essere viste da noi ma che sono state trovate nei file di gioco oppure chi si è studiato le cose vi farò vedere! Voglio prima di cominciare subito a 2000 ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in live sulla piattaforma viola dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non vi dimenticate di iscrivervi ai canali e di soprattutto attivare la campanella per non perdere il mio video delle 13 e 30 ma prima comunque una domandina io ve la devo fare una delle ultime di questa season e quindi voglio sapere proprio che cosa mi dite voi qua sotto nei commenti qual è la tua arma preferita e non parlo delle armi che sono presenti in game ma la più preferita di tutte quelle che ti ricordi ce ne sono state tantissime chi mi conosce sa qual è la mia, chi per caso non se lo ricorda glielo faccio vedere beh ragazzi la mia è ovviamente il barrettone tanta tanta roba, una delle armi più overpower del gioco 165 in body era un qualcosa di mastodonticamente esagerato ma quindi, ciancio alle bande, il bando alle ciance andiamo subito subito a vedere allora la prima informazione ovviamente si tratta del primo teaser ufficiale quello pubblicato nella mattinata di ieri per noi o nel primo pomeriggio ora non lo ricordo bene direttamente nella pagina twitter ufficiale di fortnite transmission intercept quindi trasmissione intercettata di che trasmissione si sta parlando? bella domanda, si potrebbe pensare che la trasmissione di cui si parla è proprio quel dialogo tra l'agente muscless quindi questa figura che ancora non capiamo bene quale abbia come ruolo nella season 2 e probabilmente una trasmissione che stava invece inviando l'agente del caos che come vi anticipavo già un mese abbondante fa sicuramente sarebbe stato un punto fondamentale di questa season numero 2 andando avanti ragazzi riguardiamo in maniera un pochettino più dettagliata la stessa immagine la mano d'oro è proprio il simbolo che sta caratterizzando questi ultimi giorni di season 1 in tutto il mondo e che ci porterà ovviamente alla season 2 ma le cose non sono finite perché proprio nella giornata di ieri oltre al primo teaser ne è stato pubblicato un altro non fa niente adesso pubblicano teaser violentemente questo teaser è molto interessante perché dice transmission intercept quindi trasmissione intercettata fn ch02 season 02 quindi fn sta per fortnite ch02 sta per chapter 2 e per season 2 la s guardiamo questa immagine un pochettino più ingrandita come vedete qua invece c'è un rebus la sagoma di una faccia con dietro dei colori che vanno sempre a richiamare l'oro ovviamente non c'è voluto molto prima che qualcuno componesse quelle parti che come vedete sono un pochettino frammentate per tutta la mappa ed ecco qua ragazzi che si compone la faccia la faccia ragazzi è davvero riconoscibilissima sarebbe l'agente del caos ce l'avete presente che l'agente del caos è uscito nel capitolo precedente se non ricordo male insieme agli altri 4 che vedemmo per la prima volta nei poster di gotham city quando venne sostituita tilted town insomma tutto il set di quei 5 tizi molto strani l'agente del caos che appunto ricoprirà un ruolo fondamentale bisogna capire l'agente del caos sarà per caso poi riconducibile alla skin oro perché comunque non ha senso che la maschera in questa foto sia di color oro anche se sappiamo che esiste la skin proprio che si chiama oro ma è uno scheletro è un po' incastrata la cosa ma la cosa veramente paura è che con delle dovute modifiche grafiche si può vedere che sullo sfondo dell'immagine che vi ho fatto vedere pochi secondi fa c'è un qualcosa di molto riconoscibile per chi ha giocato questa season 1 del capitolo 2 alle spalle come vedete si presenta il bunker quelle sono le grate che portano le ringhiere fino a quell'enorme porta di ferro che è presente in mappa nella parte alta dimenticata da tutti esplorata praticamente da nessuno ma che come ci aspettavamo sarebbe diventata importantissima in questo capitolo 2 anche se in realtà speravamo fosse nel capitolo 1 tra l'altro voglio farvi vedere un'altra cosa che è stata scoperta e che ci fa capire quanto siamo dei ciula perché ragazzi avevamo davanti agli occhi delle indicazioni sulla season 2 direttamente nel trailer della season 1 ed è pazzesco vi faccio vedere questo video ragazzi guardate porca miseria porca guardate che roba questa è una barca che sarà presente è la classica barca che sarà presente ma come vedete la colorazione è d'oro e voi dite quindi guarda un po' dove era presente questa barca io non ci posso credere non ci posso credere guarda bene là a destra assurdo dai dai raga nel trailer della season 1 c'era traccata vicino al molo la barca dorata che arriverà e che già ci faceva capire che avevano tutto in testa ragazzi non hanno abbandonato assolutamente nulla io non capisco ed è pazzesco capire quanto sta risalendo l'hype per tutti voi di giocare perché mi state scrivendo in tantissimi su instagram mi mandate i messaggi privati voglio tornare bellissimo adesso scontute mi mandate le foto quindi questo fa capire come fortnite riesca in una manciata di ore a riprendere parte della community a tornare a dimostrare che il proprio capolavoro non ha assolutamente perso smalto semplicemente si lascia desiderare come una buona prima donna prima di chiudere però ragazzi vi voglio anche dire un'altra cosa perché nei file di gioco sembrerebbe che sia stato scoperto il titolo della season 2 che si chiamerà take over ed è veramente incredibile perché alcuni file sono stati proprio modificati nella giornata di ieri tra cui quello che vi sto facendo vedere in questo momento come vedete nei codici di gioco è stato inserito un micione ve lo faccio vedere meglio qua ragazzi cioè questa immagine che vedete in realtà è formata da chioccioline, asterischi, slash, parentesi e tutti assieme vanno a formare il gatto che è presente proprio là in alto ragazzi il gatto che nella season 7 veniva già mostrato nella schermata di caricamento dove c'è l'Inx insomma ragazzi incredibile tutto quello che si sta concatenando ma anche per oggi le news sono finite ma vi ho già detto state molto attenti al canale youtube e alla mia pagina instagram perché potrebbe arrivare da un momento all'altro qualcosa di nuovo io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali noi siamo in live e vi aspetto ovviamente anche il 20 con la nuova season sempre di là ciao ho sbagliato slide iscrivetevi al canale